E' la solitudine, la traccia più scelta dai maturandi nella prima prova scritta degli esami di maturità, al secondo posto la traccia sull'emarginazione. In Sicilia sono poco più di 500.000 gli studenti che affrontano gli esami. Domani la seconda prova. Tre rumenni sono stati arrestati dai carabinieri di Ragusa per furto aggravato in concorso. Resistenza pubblico ufficiale ed esplosioni pericolose. Avevano rubato 10.000 euro di materiale recuperato successivamente dai militari dell'arma. Peppe Castì, candidato sindaco a Ragusa per il turno di ballottaggio, ha convocato la stampa per fare chiarezza dopo gli attacchi subiti anche sui social rispetto a presunti sostegni da parte di alcuni politici che avrebbero appoggiato altri candidati. L'agenzia di viaggi Dixi, distrutta da un incendio lo scorso fine gennaio, è stata ricostruita. Ieri sera si è avuta l'inaugurazione. L'incendio era scaturito dopo un furto. La titolare adesso guarda il futuro ed è pronta ad iniziare una nuova avventura. Buonasera telespettatori di MTG. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione che così come avete ascoltato dai titoli si apre parlando della maturità 2018. I temi centrali delle tracce d'italiano hanno riguardato le leggi razziali, i 70 anni della Costituzione, Aldo Moro a 40 anni dal rapimento e l'amore e la solidutine della poetessa Alda Merini. Le previsioni della vigilia sono quasi state tutte rispettate per la prima prova, quella di italiano che oggi si trovano ad affrontare gli oltre 500.000 maturandi da nord a sud Italia. Noi siamo andati questa mattina nell'Istituto Giovanni Verga di Modica a parlare con gli studenti. Ce ne parla Viviana Sammito. Prima giornata di esami di Stato andata. Oggi la prova di italiano. Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali. Si tratta di un brano del suo più famoso libro, Il Giardino dei Finzi Contini, pubblicato nel 62 da Inaudi. Scelti poi la cooperazione internazionale per il tema storico, con De Gasperi e Moro, 40 anni dal rapimento e dall'uccisione dell'esponente della democrazia cristiana. Una poesia su amore e solitudine di Alda Merini è stata scelta come documentazione da utilizzare per la prova di arte. Il principio dell'uguaglianza nella Costituzione alla traccia di carattere generale della prima prova di italiano della maturità 2018 a 70 anni dall'entrata in vigore. Massa e propaganda è questa la traccia scelta per l'ambito storico-politico. Alle 8.25 il ministro dell'istruzione Bussetti ha mandato il suo bocca al lupo agli studenti. State tranquilli e concentratevi, ha detto. Alle 8.30 il MIUR ha comunicato l'apertura delle tracce con la chiave telematica. La prima prova è iniziata. Io ho scelto la tipologia D, che era il tema carattere generale, sulla Costituzione. Però ero tranquillo, c'era un po' di ansia all'inizio, ma poi quando uno si sistema nei banchi non ci pensa più. I'm not a maturando hero! No, invece siete delle rovine, devo dire. Oggi l'avete superata la prova. Perché avete anche i numeri nelle magliette? Corrispondono ai numeri del registro. E il tuo che numero è? Tre. Quale traccia hai scelto? La tipologia B, il saggio breve, è sull'argomento della clonazione. E cosa vuoi fare dopo? Ovviamente ci hai pensato. Certo, andrò all'università e dopodiché si spera in un posto di lavoro. Quale facoltà hai scelto? Medicina e psicologia a Roma. Solitudine. Di Alda Merini, amore e solitudine, perché questo tema? Era il più semplice. Come avete trascorso la notte prima degli esami, questa storica notte? Male. Ma cosa hai pensato prima di arrivare qua a scuola? Quest'anno vengo bocciata. E ho scelto un saggio breve su massa e propaganda. Ho scelto che c'era qualche altro tema che voi speravate di trovare. Di me lo parli. Siamo alla fine della prima prova di italiano per questi esami di maturità 2018. Sicuramente c'è stata molta tensione da parte degli studenti che si sono detti preoccupati, ma tutto sommato soddisfatti per cui è andata questa prima giornata di esami. Ieri sera, per esorcizzare la tensione, l'anzia hanno deciso di incontrarsi sulla scalinata di San Giorgio per un flash mob intonando la mitica canzone di Antonello Venditti notte, prima degli esami. Ci siamo incontrati prima in piazza Matteotti e poi siamo andati a San Giorgio per salire le scale da tradizione di corsa. E poi lì abbiamo brindato, abbiamo aspettato la mezzanotte e poi tutti a dormire. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sa e portato. E cambiamo decisamente argomento. Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave 18 della Guardia Costiera arrivata dopo sette giorni di navigazione in mare nel porto di Pozzallo. Dieci di loro erano già arrivati nel pomeriggio con un'evacuazione medica di sei bambini, tre donne e un ventunenne. E sullo sbarco interviene anche il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Amatuna. È indispensabile continuare la corretta collaborazione fra le istituzioni. Sentiamo già da Giacquinta. Ci sarebbero anche i superstiti salvati dalla nave militare americana Trenton tra i migranti giunti a Pozzallo nella notte a bordo della nave 18. Secondo il racconto dei sopravvissuti, dovrebbero essere oltre 70 dispersi del naufragio del gommone che si è spaccato in due in mare avvenuto la settimana scorsa a largo della Libia. A bordo c'erano oltre 110 persone. Alcuni di loro hanno perso dei familiari con i quali viaggiavano. Tra le vittime è anche lo scafista che sembrerebbe finito in mare. I superstiti sono stati soccorsi dalla nave Preston della Marina Militare USA e arrivati nella tarda serata di ieri a Pozzallo sulla nave 18 della Guardia Costiera. Si tratta complessivamente di 509 migranti arrivati ieri sera dopo 7 giorni di navigazione in mare. 400 uomini, 71 donne, 38 minori, tutti di nazionalità subsahariana. Inizialmente si parlava di 519 perché 10 di loro sono sbarcati prima nel pomeriggio in quanto casi sanitari particolari, 6 bambini, 3 donne e un 21enne. Tre migranti sbarcati a Pozzallo, anche un cadavere. La salma era stata recuperata dal mercantile Vostalassa che ha soccorso 212 migranti che poi sono andati a giungersi agli altri. L'ispezione cadaverica ha accertato che l'uomo fosse morto per annegamento. Secondo le testimonianze di chi viaggiava a bordo, si trattava di un nigeriano molto malato che viaggiava da solo. Nello sbarco di ieri sera, le prime a scendere dalla nave, 18 sono state 30 donne incinte fatte salire su un piccolo pullman per essere poi trasferite per controlli in diversi ospedali del Ragusano. Tre donne e un uomo che avevano bisogno di cure mediche urgenti erano stati invece trasferiti in precedenza a Lampedusa. Sullo sbarco interviene il primo cittadino Roberto Ammatuna, il quale ha dichiarato che è indispensabile continuare una corretta collaborazione fra le istituzioni, sottolineando come il comune di Pozzallo avesse appreso dell'imbarcazione in arrivo soltanto alle 15 di ieri, dopo che la stampa ne aveva dato ampia diffusione. Il sindaco Ammatuna, in una nota stampa, ha parlato anche di una lunga peregrinazione per certi versi strana, facendo cenno a un trasponder spento che ne avrebbe impedito l'individuazione. Ritengo, afferma il sindaco di Pozzallo, che questa omissione non rispetti il principio di corretta collaborazione fra le istituzioni. L'accoglienza nella legalità, conclude Ammatuna, è il filo conduttore che ispira questa città, sempre sensibile ai doveri dell'ospitalità. I carabinieri del nucleo operativo di Ragusa hanno arrestato tre rumeni di 24, 19 e 30 anni per furto aggravato in concorso, resistenza pubblico ufficiale ed esplosioni pericolose. Fuga con sparatoria nel corso della notte a Comiso. Quattro rumeni di 19, 24 e 30 anni prima entrano in un cantiere di Ile rubando materiali e attrezzature del valore di 10.000 euro. Vengono scoperti dal proprietario il quale chiama il 112. I carabinieri del nucleo operativo di Ragusa e della compagnia di Vittoria, dopo un inseguimento nel corso della notte sulla SS 115, arrestano tre rumeni, mentre un quarto uomo è ancora ricercato. I malviventi, dopo aver notato i militari dell'arma che hanno intimato l'alt, sono scappati esplodendo alcuni colpi di pistola, ma quando sono stati raggiunti dalle pattuglie si sono fermati in aperta campagna. Due sono stati subito bloccati, il terzo già identificato e latitante, mentre il quarto è stato ammalettato nella sua abitazione. La pistola della compressa, ma ugualmente in grado di provocare gravi danni, è stata sequestrata. I tre rumeni sono stati reclusi nel carcere di Ragusa, con l'accusa di furto aggravato in concorso, resistenza pubblico ufficiale ed esplosioni pericolose. La refurtiva tutta recuperata, occultata nell'auto, è stata restituita al proprietario, l'imprenditore di Ile titolare del cantiere preso di Mila. Grazie al suo intervento e alla sua collaborazione, i militari hanno potuto portare a termine questa importante operazione, che ha certamente dato un segnale di vicinanza ai cittadini e operatività sul territorio delle forze dell'ordine. Siamo alla politica regionale. Un commento di un hater con minacce di morte al presidente della regione, Nello Musumeci, è stato pubblicato in un post sulla pagina Facebook della capogruppa del Movimento 5 Stelle a Larsi. Il posto è stato rimosso dopo che aveva suscitato polemiche anche all'assemblea regionale siciliana. Seduta quella di questa mattina alquanto infuocata, numerose le critiche nei confronti di Musumeci, che non era presente in aula, ma anche gli attestati di solidarietà. È ripresa alle 16 la seduta dell'Ars, iniziata questa mattina alquanto infuocata, dopo la decisione di ieri di rinviare il collegato alla finanziaria in commissione bilancio e il video del presidente della regione, postato in tarda serata sul suo profilo Facebook, in cui annuncia di essere pronto alle dimissioni, se, sulla strada delle riforme, il Parlamento dovesse mettersi di traverso. E proprio oggi i gruppi parlamentari di opposizione hanno chiesto le dimissioni del governatore, criticando la sua assenza dall'Aula. Il deputato pentastellato Francesco Cappello ha chiesto di convocare il governatore affinché riferisca sul prosiego e sul futuro di questa legislatura. Sulla stessa lunghezza d'onda, Cento Passi, con Claudio Fava, che dice il governo porti in assemblea le sue cosiddette riforme e sia consentito al Parlamento di esprimersi. Anche Sicilia Futura ha puntato il dito contro la maggioranza di Musumeci, secondo cui lavora per boicottarlo, ha detto Nicola D'Agostino. Ma c'è anche chi ha espresso solidarietà a Musumeci. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Antonio Catalfamo, ha detto «Il web è uno strumento di confronto, ma non deve mai degenerare in arena violenta». Riferendosi al commento di un hater con minacce di morte comparso sulla pagina Facebook del capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo dei Normanni. Il post è stato rimosso. Anche Carmelo Pullara, capogruppo di popolari e autonomisti, esprime solidarietà al presidente Musumeci. Replica la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valentina Zaffarana, che rivolgendosi a Musumeci dichiara «Le sue lamentele ora sono fuori luogo e suonano solo come scuse preventive. Pertanto ci faccia un piacere, dia risposte ai siciliani o vada veramente a casa». I risultati sono sotto gli occhi di tutti, dice Giancarlo Cancelleri. Dopo sette mesi, Musumeci non ha cavato un ragno dal buco. Andiamo a Catania per parlare di emergenza rifiuti dopo il sequestro delle quote sociali delle società che gestivano la raccolta in città. Inchiesta che vede indagati anche i dirigenti comunali, oltre ad alcuni imprenditori locali. Il neosindaco Salvo Pogliese garantisce che su questo fronte ci sarà un cambio di rotta per quanto riguarda i rifiuti, ma attenzione sarà puntata anche alle periferie della città. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, dopo il suo insediamento lunedì mattina, è già al lavoro con la sua squadra assessoriale per risolvere alcune delle emergenze in città. Una tra le tante è quella legata ai rifiuti dopo il sequestro delle quote sociali delle due società interessate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune capoluogo. Inchiesta partita dalla procura catanese, che vede indagati anche i dirigenti del settore ecologia e ambiente e della ragioneria generale del comune di Catania, oltre a imprenditori titolari delle due società sequestrate per i reati contestati a vario titolo di turbata libertà degli incanti in concorso, corruzione e instigazione alla corruzione per atti contrarie e doveri d'ufficio in concorso. Per Salvo Pogliese, l'amministrazione precedente, guidata da Enzo Bianco, ha fallito su tutti i campi, anche con la raccolta differenziata che pone Catania tra le ultime città in Italia e ultime in Sicilia. Il bando è andato deserto per quattro volte, aggiunge Pogliese, che garantisce adesso ci sarà un cambio di rotta. Ci sarà un cambio di rotta lungo la strada che abbiamo già immaginato di tracciare da forza di opposizione qualche anno fa, quando dopo la prima gara da 350 milioni di euro è andata deserta, avevamo esternato alcune nostre forti perplessità, qualcuno ci ha risposto che era stata l'ANAC a individuare quel percorso, l'ANAC poi si è fatta sentire qualche mese fa e ha smentito quello che era stato detto. Noi certamente invertiremo la rotta, il 9,5% di percentuale di raccolta differenziata credo che sia l'esempio più eclatante di un fallimento amministrativo in questo settore come mille altri, noi cercheremo certamente di invertire la rotta. Il primo cittadino punterà anche sulle periferie della città che dice sono abbandonate, oltre ai quartieri residenziali che saranno valorizzati così come tutta la città di Catania. Catania è un tutt'uno che interessa i quartieri residenziali, il centro storico così come le periferie che sono state troppo spesso abbandonate, lasciate al proprio destino. Noi attenzioneremo i quartieri residenziali, i quartieri centrali, i quartieri periferici. Nessuno avrà la bacchetta magica ma certamente l'impegno sarà totalizzato. A Ragusa parliamo adesso del candidato sindaco Peppe Cassi, nessuno potrà condizionarmi perché sono una persona libera, la mia storia personale di sportivo e professionale parla per me. Il candidato sindaco di Ragusa Peppe Cassi oggi ha voluto fare chiarezza dopo gli attacchi subiti anche sui social rispetto a presunti sostegni da parte di alcuni politici che al primo turno hanno appoggiato altri candidati. In questi mesi sono dette troppe cose, il mio nome è stato accostato a troppi uomini politici di varie forze politiche, allora io tengo a precisare una volta per tutte anche con riscontri oggettivi che dietro di me non c'è nessuno. Si alzano i toni in quest'ultima fase di campagna elettorale e il candidato sindaco di Ragusa Peppe Cassi pochi giorni prima del ballottaggio del prossimo 24 giugno non ci sta. Oggi ha convocato i giornalisti nella propria sede elettorale per chiarire che la sua storia personale, sia professionale che sportiva, parla per lui. Nessuno potrà mai condizionarmi perché sono una persona libera, sono state le sue parole. Le dichiarazioni pubblicate anche sui social su presunti politici che mi sosterrebbero per riceverne un tornaconto personale dopo un'eventuale elezione sono infondate. Mi riferisco in realtà a deputati, a persone politiche che hanno ruoli istituzionali perché fin in questi giorni sia sulla carta stampata ma adesso sui blog, sui social circolano queste voci su onorevole, onorevole Leonardo, onorevole D'Araguso, onorevole... voglio dire sappiamo che appartengono a un partito che ha appoggiato un altro candidato e quindi non è un dato di fatto, quindi adesso sostenere questi soggetti politici per quali nutro il rispetto che devo a un'istituzione possano essere dietro la mia candidatura, francamente mi viene nuovo e ci tengo a smentirlo perché è oggettivamente non vero. Poi fa un appello a tutti gli elettori affinché si rechino alle urne. Un calo di votanti al secondo turno è fisiologico ma per Cassì è importante esercitare il diritto dovere di voto anche per cambiare le sorti di una città che ha subito, secondo Cassì, un declino inesorabile. Io faccio veramente appello a tutti i cittadini ragusani di andare al voto è una cosa importante, non si può rimanere indifferenti, l'indifferenza è fuga dalla responsabilità bisogna partecipare, io posso immaginare vivendo a Ragusa che c'è un malcontento diffuso tra i miei concittadini per come è stata gestita questa città negli ultimi anni io invito tutti veramente caldamente a andare a votare e a esprimere con loro voto il desiderio di cambiamento. E da Ragusa ci spostiamo a Modica per parlare sempre di politica ancora qualche ora o al massimo pochi giorni e verranno comunicate le deleghe assessoriali al comune di Modica. In questo servizio anche l'intervista di Saro Viola, consigliere comunale, che potrebbe essere il quinto assessore della giunta a Bate. Ad ora il sindaco di Modica, Ignazio Abate, dovrebbe iniziare le consultazioni con i consiglieri di maggioranza. Da lì verranno fuori i nomi degli assessori e di quello che dovrà essere poi eletto presidente del consiglio comunale. La rosa di nomi dovrebbe essere proprio quella comunicata durante le precedenti edizioni del nostro telegiornale. A Maria Monisteri infatti dovrebbe andare sport, cultura e pubblica istruzione, mentre a Linguanti dovrebbero essere confermate le deleghe assessoriali attuali. Tra le riconferme anche Anna Maria Aiello al bilancio. Il vice sindaco questa volta potrebbe essere il braccio destro e amico del sindaco Pietro Lorefice, che cederebbe la delega assessoriale avuta per cinque anni al personale, alla new entry Saro Viola, che avrebbe anche la delega ai servizi sociali. Resterebbe fuori a questo punto Giorgio Belluardo, che con i suoi 339 voti non avrebbe soddisfatto le aspettative del sindaco, che invece guarderebbe a ben altri numeri, pari al doppio, cifre che sono all'interno di Modica 2018 e non della lista fare Modica. La presidenza del Consiglio a questo punto dovrebbe andare a Carmela Mignoto. Quest'ultima ha sempre detto infatti che il gioco di squadra è importante e fondamentale per lei, e dunque il lavoro di un assessorato potrebbe non far esprimere le sue caratteristiche di cooperazione. Oggi a parlare a MTG, Saro Viola. Non è che ci sia stata una grande affermazione nei miei confronti, anche perché la realtà delle sezioni di Frigendini, dove io ho dato gran parte del mio lavoro all'interno della CGL, non ha risposto come si doveva, anche perché esistevano quasi 15 candidati. La scalzata Modica Est? Credo proprio di sì, però ci sono ragazzi giovani, ragazzi combattivi. Si aspettava di più? Ovviamente sì, però mi risulta che tanta gente a cui abbiamo chiesto le preferenze e così via, ci dicevano noi dobbiamo fare una riunione della famiglia perché siete tutti in gamba, siete ragazzi per gli altri, io sono un po' più vecchietto, che meritate quindi? Deciderà comunque il sindaco nella ripartizione delle deleghe, se ci sarà una delega assessoriale per me. Insieme alla delega, al personale, che cosa potrebbe andare a questo punto a Saro Viola? L'attività svolta da 40 anni in mezzo alla gente, in mezzo ai lavoratori, in mezzo ai pensionati, sia qualcosa di ottimale, per esempio l'assessorato dei servizi sociali. E restiamo ancora a Modica per parlare di politica. Ad MDG parla Marcello Medica, il primo consigliere del Movimento 5 Stelle nella storia della città della Contea. Coerente con il proprio credo politico e consapevole del ruolo che rivestirà. Marcello Medica è il primo consigliere del Movimento 5 Stelle a Modica. Medica è stato in questi cinque anni il punto di riferimento tra i portavoce dei 5 Stelle. Lui, infatti, pur non sedendo in consiglio, ha prodotto diverse note di denuncia di ciò che, dal punto di vista dei pentastellati, non andava. Dalle lotte per salvare le dune di Marina di Modica al depuratore, battaglia condivisa con Ivana Castello. Medica sottolinea che la sua non sarà una opposizione a prescindere. Consapevole che il numero della minoranza non consentirà di dare un ribaltamento agli scenari politici che si registreranno, evidenzia anche lui, come poi domani, e Castello, che il loro sarà un ruolo ispettivo e che dovrà garantire una costante attività di controllo. Il traguardo è del Movimento 5 Stelle, però ci tengo a sottolineare che personalmente è un traguardo meritato. Da parte nostra faremo un'opposizione che magari, probabilmente non c'è mai stata questa opposizione, però non sarà un'opposizione a prescindere. Abbiamo le nostre proposte. Quali? Ad iniziare faccio degli esempi del baratto amministrativo, oppure dell'assegno civico, oppure in termini di sicurezza. Ci teniamo che la nostra città, i nostri centri storici siano più sicuri e quindi da questo punto di vista penso che anche da parte dell'amministrazione ci sarà la disponibilità. Ci tengo a sottolineare che sarò, giusto per riportare una frase del neoprimo ministro che si è insediato di recente, a livello nazionale, appunto, che diceva che sarà il difensore dei diritti dei cittadini. Su questa frase appunto ci tengo a sottolinearlo che sarò il difensore dei diritti, magari di chi non ha voce, sarò il portavoce soprattutto di chi non ha voce. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Riapre l'agenzia viaggi Dixie Travel Experience di via Roma a Ragusa, distrutta da un incendio lo scorso fine gennaio dopo aver subito un furto. A distanza dunque di cinque mesi, ieri sera c'è stata l'inaugurazione. È stato un momento, una giornata molto intensa perché fin dal mattino eravamo incerti se annullare, rimandare, farlo, perché il tempo non era dalla nostra parte purtroppo. Però poi insomma abbiamo preso un po' tutto con un pizzico di fatalità, per cui abbiamo detto, beh, con il fuoco abbiamo chiuso, con la pioggia riapriamo, quindi abbiamo deciso di fare lo stesso questa festa. Distrutta dal fuoco riparte con la pioggia l'avventura di Irene Di Raimondo che ha riaperto l'agenzia viaggi Dixie Travel Experience di via Roma a Ragusa, distrutta da un incendio dopo aver subito un furto il 29 gennaio scorso. Ieri sera il taglio del nastro sotto la pioggia battente, un episodio che sconvolse la città. Adesso, a quasi cinque mesi dall'episodio criminale che le distrusse il locale, Irene Di Raimondo riparte con tanta speranza e con lo spirito e il coraggio di una ragazza che decide di rimettersi in gioco. Lo spirito adesso è sicuramente positivo, è grintoso, ci piace, siamo contenti di essere ritornati, di avercela fatta, nonostante il momento triste che abbiamo vissuto, e i quattro mesi di tribolazioni, pensieri, riflessioni, cosa facciamo, apriamo, chiudiamo, andiamo via. Poi il richiamo del territorio, del posto che ti ha ospitato e ti ha comunque accolto bene si è sentito e quindi abbiamo pensato di andare avanti. Adesso il futuro com'è? Il futuro è pieno di progetti, di tante iniziative, di viaggi, di gruppo, con un taglio sempre culturale, storico, archeologico, dove ci saranno dei personaggi che faranno, accompagneranno questi gruppi, quali il dottor Nuzzo Iacono, il professore Nifosi di Scicli e altri che sveleremo più avanti. Quindi faremo dei viaggi di gruppo alla scoperta dei luoghi più nascosti e della Sicilia. L'assessorato alla pubblica istruzione della regione siciliana ha assegnato 160 mila euro al comune di Scicli per finanziare i sondaggi e le verifiche sulla vulnerabilità sismica di 10 scuole della città. Ad annunciarlo è il sindaco Enzo Giannone, l'assessore ai lavori pubblici Viviana Pitrolo. Le scuole finanziate sono l'Ali Parini Miciche, la primaria del Cata Udella, l'elementare l'infanzia di Cavadaliga, l'infanzia di Viale De Fiori, la media Don Milani, l'infanzia di Cannamare e Don Lucata e San Nicolo a Scicli, la scuola Elio Vittorini, l'infanzia della Don Milani. Nel territorio di Scicli tre finanziamenti sono stati inoltre accordati all'ex provincia di Ragusa per l'Istituto Superiore Quintino Cata Udella. Prima di fine luglio i solarium a Catania non saranno pronti, devono ancora essere aggiudicati i lavori dopo l'arrevoca del contratto all'impresa giudicatrice in quanto dal 23 maggio scorso ad oggi nessun lavoro è stato avviato. Adesso dovrà pensarci la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese. I catanesi quest'anno molto probabilmente dovranno rinunciare al mare perché quest'anno la costruzione dei solarium sta incontrando diversi intoppi e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini. Le passerelle di Piazza Europa e Ognine insieme alla scivola per i disabili da installare a San Giovanni Licuti dovevano essere consegnate il prossimo 23 giugno perché i lavori alla ditta giudicatrice sono stati consegnati il 23 maggio scorso. Considerando che nessun lavoro è stato avviato, il Comune ha predisposto il provvedimento di revoca del contratto proprio perché l'impresa che si è aggiudicata ai lavori di montaggio delle piattaforme non si è ancora messa all'opera. Anche se in un primo momento si era sperato che quest'anno le cose potessero andare diversamente, considerando che l'iter della gara era stato avviato in considerevole anticipo sulla stagione i cui tempi sono stati tuttavia penalizzati prima dal coinvolgimento dell'ex dirigente dell'ecologia ed ex RUP dei lavori di Solarium e Spiagge Libere nell'inchiesta sui rifiuti e poi dal ritardo dell'impresa giudicataria del montaggio dei Solarium. A questo punto toccherà la nuova amministrazione guidata da Salvo Pogliese prendere in mano la situazione considerando l'inadempienza della ditta e il danno di immagine causato alla città. Si dovrà adesso far scorrere la graduatoria per aggiudicare in via d'urgenza i lavori dopo la revoca e a chi si aggiudicherà i lavori dovranno essere garantiti 30 giorni di costruzione. Dunque, se tutto va bene, considerando che la decisione finale dovrebbe arrivare il prossimo 22 giugno, prima di fine luglio, nessun Solarium sarà pronto. Insomma, speriamo che i catanesi si possano fare un bagno prima che l'estate finisca. Il sindaco di Scicla ha emanato un'ordinanza con cui vieta durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, prossimo, di dare fuoco alle erbacce di terreni di abitazioni private, lanciare mozzicoli di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi, usare ancora apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in bosco e in terreni cespugliati, compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro. In un'altra ordinanza, il sindaco ordina i possessori di terreni pubblici e privati di mantenerli in perfetto stato di pulizia, così e come i terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, anche in questo caso sanzioni fino a 500 euro. E concludiamo con una notizia di basket. Lucia Savatteri è stata convocata per il raduno della nazionale Under 17 della Passalacqua Ragusa che si svolgerà a Porto San Giorgio dal 3 al 12 luglio prossimi. Insieme alla giocatrice della Passalacqua Ragusa, il tecnico Roberto Ricciardi, ha convocato anche Laura Gatti, altra giocatrice della Virtus Serene, ma come riserva. Le azzurre si ritroveranno il 3 luglio a Porto San Giorgio, dove nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento fino al 10 luglio, quando affronteranno la Francia il 13 luglio e in programma il match con la Spagna. Il giorno successivo ancora un altro confronto con la nazionale francese. Il 15 luglio sarà la volta d'Italia-Ungheria, mentre il 17 luglio se la vedranno ancora con le spagnole. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG. Grazie ancora per averci seguito, buona serata, arrivederci a domani.